Musica Benvenuti a un nuovo video Manca un po' qui su Youtube Sì, la risposta è sì, è un po' che mancavo qui su Youtube Però voglio parlare, saltiamo tutto, andiamo dritti al punto Volevo parlare all'inizio di stagione di due squadre, due franchigie Il titolo è abbastanza esplicativo Nessun tipo di sorpresa da questo punto di vista Per quanto riguarda quello di cui andremo a parlare Ovvero i Brooklyn Nets e i Los Angeles Lakers Perché? Perché sono entrambe 1-5 Come record penultime entrambe nella loro conference Dietro solamente agli Orlando Magic e agli Houston Rockets Che sono appunto le ultime squadre classificate nelle rispettive conference E hanno grossi problemi a livello di roster E a livello manageriale slash dirigenziale Che secondo me vale la pena confrontare in questo video Allora, che dire Io partirei dal meno peggio Che sono i Los Angeles Lakers Secondo me Ora, non è perché li tifo e allora sono meno peggio dei Nets Nonostante il record Secondo me I Lakers sono in una situazione migliore Migliore a livello di Insomma, del risultato che Insomma, dei risultati che avete anche voi davanti agli occhi E' una situazione migliore rispetto a quella di Brooklyn Nets Perché? Qual è la grande differenza tra i Lakers e i Nets? Secondo me La grande differenza tra i Lakers e i Nets E' che ai Lakers c'è una possibilità di poter tenere l'assetto Diciamo quello L'assetto che dovrebbe portarti a contendere per il titolo C'è una soluzione Per poter quantomeno cercare di aggiustare la situazione C'è una via d'uscita Ecco, per quanto riguarda i Lakers Sappiamo qual è E vabbè, ovviamente ne parleremo all'interno di questo video Però c'è, secondo me E' lì, davanti agli occhi di tutti Ok? Quindi Se la situazione continua a non funzionare Se la situazione continua a non essere quella desiderata Quella auspicata Quella sperata C'è sempre quella Via d'emergenza Ecco Che non dovrebbe essere d'emergenza secondo me Però vabbè Per quanto riguarda invece i Brooklyn Nets E ovviamente spiegherò perché secondo me la situazione è questa Per una parte e per l'altra Non c'è questo tipo di cuscinetto Questo tipo di giubbotto salvavita Non c'è questo tipo di opzione Perché? Non c'è questo tipo di opzione perché le due superstar Che sono a Brooklyn E parlo ovviamente di Kevin Durant e di Kyrie Irving Sono le prime due ad essere scontente della situazione Invece a Los Angeles e a Sponda Lakers Non è tanto un fattore di quanto le stelle sono Diciamo d'accordo con quello che sta succedendo O a livello di comportamento A livello di mood È una situazione di livello tecnico Quello che sta succedendo ai Nets è una situazione di livello Invece caratteriale umano Che è una situazione molto più complicata da risolvere rispetto ad una situazione tecnica Questo perché? Perché sappiamo qual è stata l'off season dei Brooklyn Nets Durant che esce allo scoperto e chiede la trade Kyrie anche lui lì indeciso, titubante su quello che bisogna fare, non bisogna fare La dirigenza Nets che era sul punto di scambiarlo Tanto così dal scambiarlo Ci si mette Durant in mezzo che vuole essere scambiato anche lui Probabilmente per facilitare una trade di Kyrie Poi fanno marcia indietro entrambi E ritornano grandi amici di Joe Tsai e di Sean Marks Che sono rispettivamente il proprietario di Franchigia E il General Manager Entrambi dicono che sono pronti a ritornare insieme sul parquet Per poter dare la caccia al titolo Con l'arrivo di Ben Simmons dopo un anno di stop E il roster va bene quello che abbiamo eccetera eccetera 1-5 di record Per quanto riguarda invece i Lakers Si arriva da una stagione fallimentare come quella dell'anno scorso Con praticamente i Big Free Vabbè giusto per tagliare corto Big Free praticamente intatti Un off-season fatto ovviamente di minimi salariali E di una squadra che va rivoluzionata ancora Tante le partenze, tanti nuovi arrivi Le certezze però rimangono sempre quei tre Non si è mai parlato di un LeBron che chiede una trade Di un Anthony Davis che chiede una trade L'unica cosa di cui si è parlato è ovviamente il caso Russell Westbrook Un giocatore che è stato molto vicino all'essere scambiato da Rob Pelinka Sappiamo ai Pacers Si è parlato anche di alternative come Charlotte per Terry Rozier Oh mio Dio Insomma ci sono state delle trade discusse per Russell Westbrook Però nessuna squadra è pronta a prendersi Russell Westbrook Senza anche la pick 2029 Dei Los Angeles Dakers Oltre alla 2027 Quindi questo cosa ha creato semplicemente? Ha creato semplicemente Un po' di allontanamento da parte di una sola Delle tre superstar di Los Angeles Dalla squadra Ovvero Russell Westbrook Mentre invece le altre due tutto sommato Ovvero Davis e LeBron Nonostante secondo me spingano ancora oggi Per una trade per Westbrook Comunque non hanno mai dato pubblicamente voce a rumor Quali voglio essere scambiato Oppure dicendo me ne voglio andare Oppure chissà cosa succederà fra due mesi Ecco Non è successo niente di tutto questo a Los Angeles E le statistiche stesse secondo me vanno a confermare quello che è quanto detto Ovvero che a Los Angeles è solo una questione tecnica Mentre invece a Netz è proprio una questione caratteriale Anche perché a livello di panchina Ai Brooklyn Nets non è cambiato l'allenatore Nonostante molte 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 critiche nei suoi confronti Steve Nash è rimasto capo allenatore dei Brooklyn Nets E dopo questo ovvio di stagione Obiettivamente parlando Secondo me il suo posto è onestamente molto a rischio Perché non vedo onestamente differenze rispetto all'anno scorso Vedo rotazioni un po' a caso Vedo delle situazioni di gioco Che sembrano un po' buttate lì a caso A differenza di quello che dovrebbe essere una squadra come i Netz Dove c'è veramente bisogno in maniera molto cicatriziale Di amalgabare bene la squadra Arriverò anche a parlare di questo all'interno di questo video Però Nash è stato bombardato di critiche Lo stesso Durente e Kyrie a quanto pare volevano che non fosse lui l'allenatore Invece la dirigenza si è impuntata E adesso vedremo quello che succederà con Nash Secondo me non finisce la stagione Potrebbe come si dice in termini calcistico Non arrivare neanche al panettone E secondo me entro Natale O a Natale stesso Nash potrebbe saltare Se non c'è un'inversione in tendenza È vero che i Netz hanno delle assenze Manca TJ Warren Seth Curry è praticamente Day to day anche lui Lo stesso discorso vale per Joe Harris Però insomma Diciamo che non è proprio La giustificazione migliore per quanto riguarda Nash Per quanto riguarda invece I Los Angeles Lakers È arrivato un nuovo allenatore Dervin Hamm Il secondo di Mike Budenholzer Dai Milwaukee Bucks Su di lui tante belle parole Un ex tra l'altro dei Lakers Ha giocato per i Lakers anni fa Però Tanti punti di domanda anche su di lui Perché ok È un allenatore inesperto Un allenatore Praticamente nuovo Ha la sua prima esperienza vera Da head coach In una squadra di questa caratura Ad allenare LeBron James Ad allenare Anthony Davis A valutare e gestire La difficile situazione Della Los Angeles Lakers C'erano molti dubbi Anche su di lui E la preseason Ha praticamente confermato Quelli che erano i dubbi Che più o meno tutti avevamo Ovvero È colpa di Dervin Hamm È veramente lui Il problema Di questi Lakers O è una natura Prettamente tecnica Che oltrepassa Le capacità di un allenatore Quello che ho potuto Constatare In queste prime partite De Los Angeles Lakers All'interno di questa Regular season E della preseason È che secondo me M è un allenatore valido Ma che Per un roster Amalgamato E costruito Malissimo Non ha il potenziale Di esprimere Il proprio Credo Cestistico Cosa intendo Con questo Allora Il roster De Los Angeles Al momento È questo qua Quindi questi 15 Non vedete Colswider Che è l'ultimo Ok Mettiamo così Così vedete tutto Questo è il roster De Los Angeles Ok E leggendo i primi due nomi Qualcuno potrebbe dirmi Ok Allora Qual è L'imprinting Che devi dare Ad una squadra Che ha Lebron James Anthony Davis In squadra È un imprinting Puramente di spacing Quindi spaziature Quindi tiratori Gente che tira Con il 35 40% da 3 Insomma Delle Delle bocche da fuoco Che diano la possibilità Uno Anthony Davis Di lavorare sotto Vicino al ferro Vicino al pitturato E due Di dare la possibilità A Lebron Di poter penetrare Al ferro E di poi trovare Sullo scarico Uno dei tiratori Questo è l'imprinting Che ormai Insomma Più o meno tutti Abbiamo capito Che bisogna applicare In questa NBA Con questo tipo Di roster Con questo tipo Quanto meno di duetto Per quanto riguarda Lebron e Davis Invece Nella Off season Sono arrivati Tutt'altro che tiratori Toscano Anderson 12% E mezzo Da 3 Ok Troy Brown Junior 29% Patrick Beverly Scambiato A caso Per Telen Orton Tucker Per una trade Ancora oggi Che non si spiega Obiettivamente Ripeto L'ho detto L'ho detto anche su Twitch Lo ripeto anche qua Su Youtube Il problema Non è aver scambiato Orton Tucker Il problema È aver usato Il contratto Di Orton Tucker Che è fondamentale Visti i contratti Dei Lakers Per aver preso Un giocatore Che non ti serve Non ti serviva Non ti servirà mai E per di più Non è quello Che appunto Ti serve Perché Beverly Tira peggio di me Ubriaco E quindi Ok Quindi Beverly 19% da 3 Troy Brown Jr 29% Quasi salvabile Occhio Cioè 29% Quasi salvabile Con 3 tentativi E mezzo a partita Toscano Anderson 12% Con 2 tripla Partita Nan 27% Con 4 tripla Partita Matt Ryan 55% Su 3 tentativi A partita Lonnie Walker Col 22% Da 3 Su 5 tentativi A partita Quindi Oh mio dio Anthony Davis Con uno spaziale 18% Da 3 In questo avvio di stagione Con tanto di clip Se la Beh Penso che la partita L'abbiate vista Perché era in diretta Su Sky Sport NBA Lakers Blazers Con spettacolare Partita di Lillard Con Nurkic Che Triple in angolo Di Davis Si gira Senza neanche Contestare il tiro Proprio disprezzando Completamente Anthony Davis E qualcuno potrebbe dirmi Vabbè ma Davis L'ha messa No Davis ha preso Il lato Della tabella Se c'è una clip Che dimostra L'avvio Dei Los Angeles Lakers È sicuramente Quella Non ci sono Esempi migliori Per quanto riguarda Questo 1-5 Dei Lakers Quindi qual è il problema E ho ovviamente Tenuto fuori Per questo motivo Russell Westbrook Ok L'ho tenuto Fuori da questo discorso Russ Per il momento Qual è il problema Principale dei Lakers È Westbrook O una squadra Che è stata costruita Con dei tiratori Imbarazzanti Tutti e due La risposta esatta È tutti e due Perché Qual è la grande Problematica Di Russell Westbrook In squadra per i Lakers La problematica principale Di Westbrook In squadra per i Lakers Non è tanto La situazione tecnica Di Russell Westbrook In campo Il problema principale È a livello Contrattuale I 47 milioni Che Westbrook Porta via Quest'anno Col suo contratto Impediscono E hanno impedito Di poter arrivare A giocatori Chiamiamoli notevoli Dai Passatemi il termine Comunque Giocatori di sostanza Ecco Che potessero migliorare Il roster Immaginatevi Al posto dei 47 milioni Di Westbrook Avere 3 giocatori Con il 35% Da 3 In squadra A 10 11 12 milioni A testa 15 milioni A testa È diverso È molto diverso Rispetto ad avere Un giocatore solo A 47 milioni Che ha le caratteristiche Opposte Rispetto a quello Che ti serve Per le tue altre superstar Quindi il problema Grande di Westbrook Chi Lakers Non è tanto Westbrook Come giocatore Perché abbiamo visto Stanotte contro Denver Che c'è Una Seppur minima Possibilità E forse M l'ha capito Ovvero Westbrook Dalla panchina Il problema Sono i soldi Che lui Va a Non lui Il suo contratto Va a Bloccare Per quanto riguarda Il mercato Che è quello Che è stato bloccato Quest'estate Con il fatto Che lui abbia accettato La player option E ovviamente Col fatto che ancora Non sia stato tradato Questo è il grosso problema Ok Questo è il grosso problema Per quanto riguarda I Lakers In aggiunta Cosa è successo Che Westbrook Ti blocca Il mercato La off season Per un anno intero Non vai a prendere I tiratori Che ti servono Primo E secondo Gli unici giocatori Che puoi scambiare Perché sono gli unici Che puoi scambiare Come Telenor Tontaker Vai a prendere Patrick Beverly Vuoi proprio Farti del male Ok Pelink Ha fatto un lavoro Assolutamente Insufficiente In questa off season Non tanto perché Non sono arrivati I nomi altisonanti O chissà che cosa Quelli non erano Quest'anno Che dovevi prenderli Era l'anno scorso Senza scambiare Per Westbrook Però A giochi fatti I giocatori Che sono stati firmati E sono arrivati In off season Sono tutti Non tiratori Lo stesso Thomas Bryant Se vogliamo andare a vedere E' vero Preso anche lui Al minimo E quant'altro Però anche lui E' tutto quello Che non serve A questi Lakers A livello di lunghi Ok Bryant è un altro centro Che deve stare vicino A Canestro Sportellate E quant'altro Ok Un tipo di giocatore Che va contro Anche lui Alle esigenze Di questo tipo Di Los Angeles Lakers Ok Quindi il problema È questo qua Per quello Dico che il problema Dei Lakers È più di caratura Tecnica Che caratteriale Perché comunque Ci si prova A Los Angeles Si vede che ci si prova Nonostante le smorfi Di Lebrone E quant'altro Ci si prova In qualche modo Parlando delle statistiche Visto che stiamo parlando Di Los Angeles Lakers La cosa ovviamente Che risalta all'occhio È questo bel League rank 30 Alla percentuale Da 3 punti 27% Da 3 Ultimi Straultimi I Los Angeles Lakers Per percentuale Da 3 punti In stagione Possiamo ridurre Tutte le sconfitte A questa percentuale Da 3 punti Ni Perché comunque I Lakers Le partite Se le sono giocati Con i Clippers La partita è stata giocata Con Golden State La partita è stata giocata Per due quarti Poi i Warriors Sono andati via Nel terzo quarto Con Portland Punto a punto Cioè La situazione è questa La situazione dei Lakers Non è così disastrata Come si vuol far credere O come si fa passare È una situazione Sicuramente difficile Perché è difficile Uscirne È difficile Poter cambiare Completamente rotta Se non viene fatta Quella trade Che poi Che fosse stata Per Per Bogdanovic Che adesso A Detroit È il miglior giocatore Per True Shooting Percentage In NBA Che sia stata fatta Per il Tamperer Miles Tarner Che al Podcast Di Voniaroschi Praticamente Supplica I Lakers Di far la trade Che sia stato Per qualsiasi trade Voi vogliate Anche per arrivare A quella Madonna Rosier Il problema Il problema È principalmente Una Una mancanza totale Di tiro a tre punti E una mancanza totale Di tiro a tre punti Rende la vita difficile A Lebron E a Anthony Davis Che sono i due giocatori Che dovrebbero invece Mangiare in testa Le difese Grazie a delle difese Molto allargate Per non concedere Il tiro Da tre punti Ma se andiamo a vedere Ad esempio Le statistiche Difensive Dei Lakers Torniamo Più o meno A livelli Della bolla Alla squadra Che Coach Vogel Ha allenato Per vincere il titolo Terzi Per rimbalzi Difensivi Settimi Per rimbalzi Totali Quarti Per palle Rubate Tredicesimi In stoppate Quindi A livello Difensivo I Lakers Si fanno valere I Lakers Sono E ci arriviamo Sono undicesimi Ok Undicesimi Per punti concessi Ma sono terzi Per defensive rating Quindi su 100 possessi I Lakers Ne concedono 106 Terzi in NBA E' la terza miglior difesa Su 100 possessi Quella dei Lakers Qual è il fatto? Il problema è che I Lakers Sono la prima squadra In NBA Per pace Per numero di possessi Che assurdo Pensando che ci siano Lebrone Anthony Davis In squadra Essere primi Per possessi Ma Pensando alla difficoltà Da tre punti Che hanno i Lakers E' normale Che bisogna cercare Di prendere Le difese In contropiede Cercare di Non permettere Alle squadre avversarie Di Difendere Di Di organizzarsi Difensivamente Quindi i Lakers Sono obbligati A correre Perché non hanno Un tiro a tre punti Difendono alla grande Ma non riescono A capitalizzare Col tiro a tre punti Questo è il grosso problema Dei Lakers E questo problema Non è un problema Caratteriale È un problema Tecnico Si può risolvere I problemi tecnici Possono essere risolti Quelli caratteriali Un po' di meno Considerando anche Schroeder È ancora fuori Per fortuna Dall'infortunio E Thomas Bryant Anche lui Operato al pollice Mancano due giocatori Che sono in rotazione Comunque Ai Lakers Schroeder Dovrebbe rientrare Un altro paio di settimane Stesso discorso Per Thomas Bryant Ma ad ogni modo Il discorso A livello Tecnico Dei Lakers È questo qua È facilmente individuabile Dalle statistiche Quale sia Il grosso problema Dei Lakers Una gravissima Mancanza Al tiro a tre punti Che deve essere Soppiantato Dal pace Più alto Dell'NBA Ma questo Ti fa Spompare Giocatori Che hanno 35 38 anni Lebron 38 anni Westbrook 34 Beverly 34 E poi Per fortuna Il resto della squadra È molto giovane Però il problema È che i giocatori chiave I giocatori cardine Sono tutti Ultra 34 anni E Anthony Davis Ha più o meno Il fisico di un 80enne E quindi è chiaro Che vai a spompare Ulteriormente I tuoi giocatori Spiegato perché Lebron Abbia una percentuale Così bassa In carriera Dal campo Probabilmente Una delle peggiori Percentuali dal campo Che abbia mai avuto In carriera È semplicemente Un problema di Un problema tecnico Un problema di Che non puoi Giocare 105 Possessi a partita Con Lebron James In squadra Ma non puoi giocare Di meno Con Russell Westbrook In campo Perché invece Il tipo di Pallacanestro Di Russell Westbrook È una pallacanestro Up tempo Nonostante abbia 34 anni Westbrook è ancora In grado Di poter Prendere palla E attaccare Uno contro uno Tutti Ok Il discorso però Qual è? Che se Westbrook Attacca A suo modo Con quattro tiratori È un discorso Se Westbrook Attacca con quattro Non tiratori Abbiamo le partite Che ha fatto Westbrook Ok Quindi anche qua A livello di colpa È una colpa Splittata Questa non è una squadra Per Westbrook Neanche se giochiamo Cent'anni Ok Allo stesso momento Westbrook Ha delle grosse colpe Perché Non ha lavorato Su quelle che sono Le lacune Che questa squadra Ha Ovvero Mi sono allenato Tutto l'offseason A tirare Madonna Cioè se non si allenava Al tiro Non posso immaginare Ok Quindi Il problema dei Lakers È un problema Di livello Tecnico Risolvibile Con una trade Importante Come quella Con i Pacers Ma è risolvibile Poi Se i Lakers Fanno ultimi Ovest Dopo la trade È comunque Una mossa giusta Secondo me Perché vai a prendere Due giocatori Che sono Molto più fit All'interno Di questa squadra È vero che Miles Turner È in scadenza Però i Lakers Prenderebbero i diritti Bird Quindi potrebbero Rifirmarlo Senza problemi Alle cifre Che vuole Turner Senza Potendo sforare Il L'attacks level Mentre invece Buddy Hild È un giocatore Sicuramente più tiratore Di Westbrook Magari non Ray Allen Magari non Steph Curry Però un giocatore Molto più rispettabile Al tiro Ovviamente Balla quella scelta 29 Che ovviamente Per i Lakers Per il futuro Dei Lakers È fondamentale Detto questo Però Quindi questo È il grosso problema Dei Lakers È un problema Tecnico Un problema Del fatto Che il roster Che è stato creato Attorno alle due Superstar Non ha senso Non c'è una logica All'interno Di questo roster Per quanto riguarda La direzione In cui sta andando L'NBA Ovvero Un tiro a tre punti Sempre più Diciamo Distante Lontano Si tira sempre più lontano Sempre più marcato Sempre più Insomma Lo sappiamo Ecco Questo roster Non è Non può reggere Una NBA Del 2022 2023 E le statistiche Vanno a dimostrarlo Se questa squadra Fosse un disastro E fosse una squadra Imbarazzante Non ci sarebbero numeri Così Comunque Accattivanti A livello difensivo Cioè Ileca sono Quarti per palle rubate Settimi per rimbalzi Terzi per rimbalzi Difensivi Tredicesimi per stoppate Cioè Non è una squadra Allo sbaraglio Ok Non è una squadra Morta Dove non funziona niente In attacco Non si segna mai In difesa Non si difende Ileca si difendono Come delle bestie Cioè Io ho visto Lebron Stanotte Contro Jokic Fronteggiarlo In post E non fargli Prendere palla Cioè Quello È Positivo È È quello che Sto cercando Di spiegare C'è del potenziale A livello Difensivo In questa squadra Manca L'attacco Se questa squadra Riesce a trovare Quanto meno Una percentuale Da Diciottesimo Posto A livello Di percentuale Tra i punti Da 27% Sali a 30% 32% 31% Questa squadra È una squadra Molto pericolosa Cioè Questi Lakers Non sono così Imbarazzanti E tristi Come si vuole Far credere C'è tanto Tanto Di potenziale In questa squadra Ma va tirato fuori Tramite Una trade In altro modo Non c'è Non troverete mai Westbrook Che tira col 50% Da 3 Lebron Non si metterà A tirare Col 39% Da 3 Anthony Davis Non si metterà Mai a tirare Col 39% Da 3 Stesso discorso Per tutti gli altri Ok Serve un cambiamento A livello di trade Pelinka lo vorrà fare Non lo vorrà fare Questo non lo so Io da tifoso Reputo Che vada fatto Questo scambio Secondo me ci sono Le potenzialità Vedendo questi numeri Vedendo le partite E la percezione Di M Come allenatore Secondo me c'è Una minima possibilità O comunque c'è Una possibilità Che dando Una trade A questa squadra Si possa veramente Fare Grandi cose Quest'anno Lo sento davvero Non sto scherzando Da questo punto di vista Però va fatta Quella trade Senza quella trade Purtroppo Non ci si schioda Passando invece Alla situazione Nets E qui invece Passiamo Alla situazione Un pochino più Disastrata C'è una situazione Caratteriale Sicuramente Anche qua Ripeto Mancano due giocatori Importanti Come TJ Warren E SF Curry Poi dipende Quale Warren Ovviamente Rientra dall'infortunio Però Sono due giocatori Sicuramente Che non possono Fare altro Che dare una mano A livello offensivo A questa squadra Vedendo le statistiche Dei Brooklyn Nets Spicca un primo posto Per stoppate Quasi Contrologica No? Rispetto a quello Che ci aspetteremmo Però poi Vediamo Delle Cifre Abbastanza Preoccupanti Ovvero I Nets Sono ultimi Per possessi Per punti concessi Ultimi Ok? Sono diciottesimi Per punti segnati Quindi Below average Sono sotto L'average Sono ventesimi Per pace Quindi sono una squadra Che gioca a ritmo Lento Ok? Una squadra Che gioca a ritmo Lento Che è quello Che va contro I dettami difensivi Della Run and gun Della 7 seconds On rest Di cui Nash Sarebbe l'adepto Massimo Visto che Appunto Ha giocato sotto D'Antoni Su 100 possessi La situazione Non cambia Sono leggermente Meglio in offensive rating Ma sono sempre Straultimi In Difensive rating Quindi cosa vuol dire questo? Sono una squadra Che non difende Una squadra Che non Difende E le statistiche Vanno a rimarcare Quanto detto Sono ultimi Per rimbalzi Perché se la squadra Avversaria Continua a segnare Rimbalzi Non ci sono Sono penultimi Per rimbalzi Totali Quindi ultimi Per rimbalzi Difensivi Penultimi Per rimbalzi Totali Sono quinti Per palle Perse Sono penultimi Per falli Ok Quindi sono La seconda squadra Che fa più falli E Sono ventitresimi Per rimbalzi Offensivi Sono quinti Per tentativi Al tiro libero Quindi almeno Questo Sono una squadra Che va tanto In lunetta Sono quinti Sono però Venticinquesimi Percentuale a tre punti Che è quello Che tecnicamente Dovrebbe essere L'arma definitiva Dei Nets Ovvero Il tiro a tre punti Ovvero Tutti che tirano Da ovunque Eccetera 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 E' vero L'arrivo Il ritorno Di Curry Aiuterà Questa percentuale Però Considerando Che Poi non difendi Dall'altra parte Hai delle debacle Clamorose Come la sveglia Presa con i Pelicans Ad esempio Che è una bella squadra Però la sveglia Che hanno preso Con i Pelicans In casa E' stata Clamorosa Secondo me Veramente Una Una rata Che rispecchia Perfettamente Inizio di stagione Dei Brooklyn Nets Quindi Se voi Mi paragonate Queste statistiche A queste statistiche Io vedo Molto più potenziale In quelle dei Lakers Rispetto a quella Dei Nets Perché i Nets Sono mediocri Praticamente In tutto Ventesimi Per tentativi Da 3 punti Venticinquesimi Per percentuale 3 punti Quindi male Sono quinti Per tentativi Al tiro libero Va bene Sono però Ventitresimi In rimbalzi offensivi Trentesimi Ultimi In rimbalzi Difensivi E ventinovesimi Per rimbalzi Totali Cioè Non c'è una vera e propria Area Dove I Nets Ti dicano Ok Noi Ok Va bene Non difendiamo Però Abbiamo il miglior Percento da 3 punti In NBA No Ok Non segniamo mai In attacco Non segniamo mai Ma mai 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 Non segniamo mai Non segniamo mai Vero che non segniamo mai Noi non segniamo mai Da 3 punti Non segniamo mai Però difendiamo Però ci facciamo sentire Però Ecco Qui no purtroppo Ok Qui no Male Molto male In Nets E ripeto La questione secondo me È prettamente caratteriale Durente è rimasto controvoglia Durente è rimasto Non si sa bene per quale motivo Lo stesso discorso Per Kyrie Sentivo e leggevo Che Gobert Ha Radicalmente Modificato Il modo di intendere Questa off season Soprattutto a livello Di scambi Perché quello Che Minnesota Ha dato E ha rinunciato Per arrivare a Gobert Ha dettato poi Quelli che erano Sostanzialmente I prezzi I valori Per un eventuale trade Per Durant Ovviamente Perché Se Gobert Viene scambiato Per 3 più 2 Pick Pick swap Durant lo devi scambiare Per 8 pick Più 13 pick swap Minimo Ecco Io non credo sia stato Tanto quello Perché il valore Di un giocatore È indipendente Rispetto al valore Di mercato Di altri giocatori Perché le franchigie Sono disposte a fare Pazzie personali Sono disposte a fare Pazzie che esulano Dalla situazione Di altre franchigie Però È chiaro che Ci sia qualcosa Che non va Proprio a livello Di spogliatoio Un altro dei motivi Secondo me Che impatta Nello spogliatoio Dei Nezzi In maniera abbastanza Pesante È Ben Simmons Ora Voi sapete Cosa penso di Ben E sapete Che secondo me Ha trovato La sua squadra perfetta Almeno ha trovato Il ruolo perfetto All'interno Di una squadra Ovvero Non gli viene chiesto Di segnare Non gli viene chiesto Di fare Doppie doppie Triple doppie Di iniziare a tirare Da 12 metri E quant'altro Non gli viene chiesto Questo Però Non gli viene neanche chiesto Di fare più falli Che punti Perché Simmons Viaggia 6 punti di media Con 4 falli a partita Molto falloso 7 assist 6 rimbalzi Vabbè Va bene Siamo d'accordo Ok Perfetto Un 44% Dal campo Su appena 6 tentativi A partita Io credo che La situazione Sia veramente Veramente Triste Da questo punto di vista Durante Kyrie Sono giocatori Ovviamente Che hanno Punti nelle mani Tanti 30 e 32 Ok Ed è chiaro Che A livello di scoring I Nets Si basino Su loro due Su questo Vabbè Lo sapevamo Cioè Il segreto di Pulcinella Penso che Lo sapevamo tutti Come sarebbe andata a finire Con i Nets Ovvero Durante Kyrie Da 28 27 29 di media Tutta la stagione Però il terzo miglior giocatore Di questo roster È chiaramente Ben Simmons E È vero che non gli viene chiesto Di fare Chissà che cosa Non gli viene chiesto Di Non gli viene chiesto Di fare Triple doppie Roboanti Da 15 15 15 Non gli viene chiesto Di tirare da 3 Col 60% Non gli viene chiesto Di tirare Diciamo Con costanza Però L'aggressività In campo Che mette Simmons Alcune volte È veramente sfuggente Ci sono clip Dove lo vedi Che Lo guardi E dici Vabbè Sei recuperabile Ed è un concetto Che purtroppo Mi sta entrando Nella testa È un concetto Che mi sta balenando Poco a poco Nella testa E si sta oramai Rinvigorendo Sempre di più Non è più Un discorso tecnico È vero C'è l'attenuante Del fatto Che Durente e Carrie Abbiano chiesto La trade Quest'estate Quindi Ci si può sempre Appigliare a quello Però è proprio Un discorso Di Impatto È proprio Un discorso Di È proprio Un discorso Di voglia Di aggressività Di Di cazzimma Tante volte Lo vedi Che girovaga Che È passivo È Cioè Non c'è Quella Cattiveria Che tu dici Minchia Sono stato Un anno Fermo No Lui ha Lui ha Pubblicizzato Il suo ritorno Alla palla canestro Con È un anno Che sono fermo Ho avuto problemi Psicologici A Philadelphia Mi hanno preso Calci nel culo Vero Perché non è solo Colpa sua Blablabla Perché in panchina Hanno una capra Blablabla Blablabla Adesso Rientro Nuova squadra Non vedo Ritornare a Philadelphia Beh Però poi Lo vedi giocare Dici Bah Non mi sembri Proprio Convintissimo Di quello Che hai detto Nella Preseason Tra l'altro Percentuale Di tiri liberi Sempre Molto Molto Buona Un interessante 47% Da Da lì Nel tiro libero Clexton Riesce a fare Peggio 38% I tiri liberi Qui siamo Veramente A livello Mini Basket Però Appunto Non lo vedi Non lo vedi Preso Dalla situazione Non lo vedi Che è Aggressivo Cioè io non ho ancora Visto una partita Di Ben Simmons Dove È sceso in campo A mangiarsi La partita Poi ripeto Con Durente E Kyrie Non è che ne fai 47% Cioè Non succederà mai Che Ben Simmons Ne mette più di 20% Ok Ma non deve neanche Metterne 20% Ne bastano 14% 16% Però deve essere Una prestazione Impattante A livello di voglia A livello di Quello che viene Definito Quello che viene Definito Intangibles Cioè le cose Che non vengono Viste dalle statistiche Anche se ormai Le statistiche Vedono tutto Però proprio A livello di voglia Di aggressività A livello di Stare in campo Di presenza in campo Non c'è Manca completamente A Inez in generale Ma soprattutto A lui Poi Sicuramente Nash Ha le sue colpe Sicuramente Nash È un allenatore Che non invoglia Questo tipo di atteggiamento Nonostante sia fatto Espellere Brutalmente A Milwaukee Però Il discorso è proprio Che manca Un atteggiamento Aggressivo Da parte di Ben E Non dico che Ben È Cioè O meglio Non dico che è solo Questo il problema Però Secondo me E l'ho detto Nella mia preview Della stagione E lo ribadisco Secondo me L'ago della bilancia Di questa stagione Dei Nets È Ben Simmons E Per il momento Sto avendo ragione Perché gli altri due Ci sono Con i Trenta punti Di media partita Quello che manca È Ben Quello che manca È Ben Si vede Che è Ben Che manca E purtroppo E Purtroppo sta succedendo Che Non c'è Obiettivamente Non c'è Una Non c'è Modo Di Quasi Di Rilanciarlo Queste sono le sconfitte Dei Brooklyn Nets Tra l'altro Sono andate a prenderle È vero che i Nets Hanno avuto un calendario Molto tosto Questo è vero È innegabile Hanno perso Con i Pelicans Che sono molto in forma In questo senso di stagione Giocano veramente bene Hanno vinto Con i Raptors Che è forse La partita Che Diciamo Quella meno Diciamo che ci si aspettava Che vincessero Con i Pelicans Per il secondo Toronto Hanno perso Con Memphis Hanno perso Con i Bucks Vabbè i Bucks Sono Una corazzata Lo sappiamo Hanno perso All'overtime Contro Dallas E ci sta Perdere con Indiana Però no Tra l'altro Nelle sconfitte Con Dallas E Indiana Hanno concesso Il 50% Tra gli avversari Per di più Ecco Parlando di problemi Sicuramente È un calendario difficile Nel senso Toronto Memphis Milwaukee Dallas Cioè Almeno delle sei sconfitte Che hanno avuto Quattro O meglio Sei partiti Che hanno avuto Quattro Sono comunque con squadre Che Vanno ai playoff O auspicano Di andare ai playoff O lottano Per andare ai playoff Perché Milwaukee Dallas E Memphis Andranno ai playoff Toronto Vediamo I Pelicans Sono una squadra Molto in forma Attenzione Anche questa Potremmo mettere 5 su 6 Potenzialmente Che si giocano I playoff Indiana Obiettivamente No È inaccettabile Perdere in casa Con Indiana C'è la rivincita Stanotte Vediamo come va È chiaro Che Se dovesse perdere Ancora Nash Per me Già saluta Stanotte Io non vedo Onestamente Come possa Rimanere Allenatore Nash Se perde Anche stanotte Contro Indiana Per quanto riguarda I Lakers Già che ci siamo Facciamo la stessa cosa I Lakers Partiti 0-5 Invece Quindi proprio Proprio 0 su 5 Persa con Golden State Persa con i Clippers Persa con Portland Che è 5-1 Al momento Persa con Denver Persa con Minnesota I Lakers Hanno affrontato Tutte squadre Potenzialmente Da playoff Tranne Portland Che secondo me Andrà a scemare Mano a mano Le altre Sono squadre Da playoff I Warriors Sono contender Anche se Stanno avendo Un brutto periodo I Clippers Per me Sono la migliore squadra A ovest Appena Kawaii e Wall Ritrovano un attimo Il ritmo partita Per me I Clippers Sono la migliore squadra A ovest A mani basse Denver Una squadra Da potenziale Top 3 A ovest Minnesota Una squadra Che ha ancora Tanto da amalgamare Questo è vero Però è una squadra Solida Tra l'altro Indovinate Chi è primo Per defensive Winsher In stagione Rudy Esatto Proprio lui Quindi insomma Anche i Lakers Hanno avuto Proprio Un avvio Cuscinetto Ecco Sia i Lakers Che i Nets Hanno avuto Un avvio Comunque Importante Per entrambi Squadre Molto toste Tra l'altro I Lakers Adesso giocheranno Con i Pelicans Uno spareggio Visto che La scelta Ce l'hanno I Pelicans Che possono Scegliere Di scambiarla O no Con i Lakers E' un pick swap Quello di quest'anno Quindi i Pelicans Potrebbero tenersi La loro scelta Se Ovviamente Se quella Dell'Lakers E' peggiore Se quella Dell'Lakers E' migliore Potrebbero Scegliere Di cambiarla Ovviamente Poi arriva Iuta L'aiuta Delle meraviglie Poi arriva Cleveland Con Mitch L'informato MVP E poi Si ritorna Aiuta A Solvexy Di più che aiuta E poi I Clippers Per il derby Del 9 Onestamente Se aiuta Riescono a capire E probabilmente Arriverà la chiamata Che Victor Non si prende Da solo Probabilmente Sono due vittorie Obiettivamente Ho molta paura Con i Cavs Perché sono Veramente On fire In questo momento Con i Clippers Il derby E' sempre una partita A sé Come nel calcio Per quanto riguarda I Nets Arrivano Delle partite toste Arrivano i Bulls E soprattutto Si va a Dallas Prima di fare Un giro a Ovest Con Clippers Lakers Kings Blazer Insomma la California Praticamente La West Coast Squadre molto più Abbordabili Obiettivamente Ripeto I Pacers Novamente O meglio Per la prima volta In stagione Washington Charlotte Della Della Prison League E La nostra squadra Chat La nostra squadra La nostra squadra Enix Per me Già con Indiana Stanotte E' un crocevia Per Nash Se perde Secondo me Salta Proprio Salta tutto Per i Lakers C'è più spazio C'è più breathing room C'è più spazio Per respirare Nonostante L'avvio Brutto Per entrambe le squadre Però Secondo me Meglio i Lakers Dai Nets In questo inizio Di stagione E la grande differenza Tra le due E che i Lakers Sono una disfatta Tecnica I Nets Sono una disfatta Psicologica Fatemi sapere Cosa ne pensate Di entrambi Gli avvi di stagione Dei Nets E dei Lakers Ovviamente Poi su Twitch Parleremo anche Di tutte le altre squadre Magari Mi metterò anche a fare Qualche approfondimento In più Qui su Youtube Per parlare Di Di squadre Un pochino Meno Calcolate Al momento La Al momento La stagione Recita questo Ovvero Bucks Imbattuti Unica squadra NBA A essere Imbattuta Con i Cavs In scia 5-1 Stessi risultati Per Suns E Blazers Dall'altra parte A ovest Con San Antonio E Utah Terzi A ovest Con 5-2 No comment Ah tra l'altro Vabbè Sicuramente qualcuno Magari nei commenti Mi chiederà Della situazione Di Joshua Primo Ecco Praticamente Joshua Primo È stato tagliato Dagli Spurs Perché A quanto pare Una Una ex Dipendente Degli Spurs Ha detto Una dipendente Un ex Dipendente Comunque Una Parola chiave Una signorina Mettiamola così Ha Riferito Che Praticamente Joshua Primo Come dire Com'è che posso dirlo Le ha fatto vedere Il Ecco Quando a Primo Le hanno detto La penetrazione Lui ha capito Evidentemente male Gliel'ha uscito Più volte Pare più volte Ora Penso Gliel'abbia uscito Nei DM Un po' come Draymond Dall'epoca Ecco Comunque Primo è stato tagliato Per questo motivo Per Diciamo Condotta Antietica Ecco E ora Vediamo Quale sarà Poi Il risultato Della Insomma Della Della situazione Dell'indagine Se ci saranno Poi Dei Insomma Delle 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 Ripercussioni Penali Oppure No Perché Comunque Il ragazzo È maggiorenne E Uscirlo Alle ragazze Che non Sono Che non Diciamo Che non Sono Consezzienti Può portare A delle Ripercussioni Penali Ovviamente Gli Spurs Hanno subito Sfanculato Tutto Notizia Dell'ultima Ora Notizia Dell'ultima Ora Shams Adesso Adesso In diretta Ben Simmons Questionable Contro Indiana Stanotte Per un problema Al ginocchio Quindi Tutto quello 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 Che ho detto In questo Video Buttatelo Nel cesso Io vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo Can you hear The sound We're the revolution 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 We're the revolution